Ah, 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 ah... Fine dei giochi, game over. Che facciamo col cinese? Lo ammazziamo e facciamo sparire il corpo. Quel dannato cinese mi infilzerà con i suoi aghi. Ho paura, mi sento male, mamma. Chiudi la bocca, stupità. Non riesco a pensare. Ah, non sa quanto sono contenta che sia venuto. Che capelli lunghi, non ha paura che glieli taglino per farci i pennelli da barba o parrucchi? Cade valdente, cade valdente, Penelina Balba. Adesso ho capito, lei è tanto speletosa. Quando viene la paziente? Vado subito a chiamarla. Federico, Federico, guarda chi c'è. È venuto il cinese, è venuto. Non ci posso credere. Sì, 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 sì. Non ci posso credere, che piacere. Molto inolevole, signor Flitabalden, Flitabalden, sì. Non ho più scappatoie, mammina, dovrò morire sul serio. Coraggio del fila, coraggio. Adesso tira fuori la grande attrice che sente. Hai anche la faccia da malata, tesoro, sei perfetta. Ho una brutta faccia, perché sono ore che ti dico che mi sento male. È quello che ci vuole. Adesso recita, andiamo, vieni, vieni. La paziente sta arrivando. Così che l'avevo? Mi raccomando, lei non sa che sta così male, sta per morire. È una brutta cosa, mentile. Sì, non succederà più, lo prevedo. Buona sera, dolce stella dell'Occidente. Flaggile, livello, la dalle ale spezzate. Sono qui per l'aiuto alla gualile. Ma mi sento male sul serio. Sei piccola mia, lo sai. Che orrore! La tesi, ti che aspetta? Che spavento! Dottore, che gli è successo? La lebellula è molta! Cosa? Come morire? Ciao! La terapia! La terapia! Sì Le spalte al vento sopra sui caras Le sorrattori non tenei nada Non tengo nada Ti tengo, tengo todo Sorrita il suo nello Ti sembrava la tua voce Non sei quanto ti voglio a bari Io ti voglio tanto bari Flore 2 Dalla lunedì 26 aprile alle 15 Su poi Quante cose speciali puoi fare con Flore Mantenerti in forma Ora abbraccia il grosso Panna Diamogli tanto tanto amore e lo lasciamo andare Ballare e divertirti 3, 1, 2, 3 E chiediamo ole Sognare e dare spazio ai desideri Immagina di essere su un'isola Al caldo E canti con un principe al tuo fianco Con lei ogni momento è speciale Flore Da lunedì al sabato Alle 15 alle 18 e 25 Alle 21 e 25 Su Vong I Teen Angels sono in arrivo su Boeing E un nuovo gruppo Un bell'un Da lunedì at To you Andiamo Le dom Chik